Io mi ricordo il prurito, la fotofobia, quel senso di prostrazione. È una malattia che impegna abbastanza l'organismo. In molti di noi potremo raccontare cosa abbiamo provato quando ci siamo ammalati di morbillo. Se ne torna a parlare dopo i casi verificatosi in Piemonte, Lombardia, Lazio, Abruzzo e Toscana. 131 casi su 1.300, quindi il 10% riguarda gli operatori sanitari, il che francamente dispiace e non lo vorrei neppure dire ma lo devo riconoscere. Ad Arezzo c'è stato un unico caso, una donna adulta risolto positivamente. L'obiettivo per eliminare la malattia sarebbe del 95% dei bambini vaccinati. In Toscana arriviamo all'88% ma è una percentuale che scende ogni anno. C'è una sacca di bambini suscettibili che poi diventano ragazzi suscettibili, adolescenti suscettibili, che si allarga anno dopo anno. La Giunta Toscana ha approvato una proposta di legge che potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno e che inserisce l'obbligo di vaccinazione per la frequentazione dell'asilo. Mentre nella comunità medico-scientifica c'è che si fa ancora tante domande. I vaccini sono farmaci come qualunque altro farmaco, come un ormone, come un antinfiammatorio, come un antibiotico. Quindi non riesco a capire perché. Se io posso segnalare un evento avverso che si sia verificato dopo un farmaco, qualunque esso sia, questo non vale nel caso sia un vaccino. Il fatto di segnalare all'organismo che è deputato a ricevere queste segnalazioni non significa che quell'evento avverso sia stato causato dal farmaco in questione, ma è un meccanismo di sorveglianza fondamentale.